L'Una forte per Giovanni Sorosini! Buonasera, buonasera a tutti, ma siete tantissimi! Com'è stato? Allora, c'è chi chiedevo prima di fare le foto... ...quindi non posso dire bugie, sono stata a casa della Lecciso. Ecco la bella, ho capito, ho capito, ma insomma... Un pochino al Pizzaristo, torta per tutti i partecipanti, offerto dal centro commerciale La Mongolfiera. Facciamo ancora un applauso per i 25 anni! Grazie a tutti!